Buongiorno a tutti, grazie del vostro tempo e della partecipazione. Io sono Riccardo Ciarlo e sono il responsabile per l'Italia di Neo4j. Sono con me e sarà, diciamo, il protagonista di questo webinar, Jan Arzen, che è il responsabile per l'Emea, per l'Europa, dei nostri servizi professionali, professional services, quindi implementazione, consulenza, training e tutto quanto può afferire i servizi su Neo4j. C'è anche collegata Lorena Iturra, che probabilmente qualcuno di voi ha già avuto contatti via e-mail o via Compreneur School, che è la nostra SDR, quindi Sales Development Representative, collabora con me nel contatto con il mercato italiano e con la, diciamo, divulgazione di Neo4j in Italia. Possiamo andare alla prossima slide. Alcune brevissime indicazioni. Come abbiamo detto, stiamo registrando questo evento, questo webinar. Vi chiediamo naturalmente di rimanere in mute, se non dovete intervenire, così da avere più... Riccardo. Riccardo, sei andato in mute? Sì. Scusate, non so cosa ho toccato. Dove ero arrivato? Proprio al momento che dicevi mute. E quindi stare in mute, non so quando parlate potete non essere in mute, come sto facendo io. Mettere le domande potete metterle nella chat e poi vedremo di trovare uno spazio di Q&A alla fine, oppure comunque le domande verranno eventualmente date risposta anche successivamente via e-mail. e poi ci sono alcuni polling, quindi alcune richieste di vostra indicazione che verranno attivate durante il webinar. e poi la registrazione che stiamo facendo e anche le slide possono essere disponibili per voi a richiesta, quindi inviateci email per chiedere copie di queste. Passiamo oltre. L'agenda di oggi parla, diciamo specificatamente, di antifrode, quindi attività di contrasto alla frode in genere o comunque ad attività criminali in genere e in particolare una specifica sugli attuali frodatori, chi sono e come si sono definiti, come possono essere definiti. Poi un'introduzione su come funziona la modellazione a grafo proprio nel settore dell'antifrode, sempre questo guidato da Jan. Poi farà una breve demo, una breve presentazione di come effettivamente si lavora su Neo4j per le applicazioni di antifrode, alcuni esempi. E poi un accenno anche a come la nostra componente di Data Science, è stata anche poi di recente rilasciata un modulo proprio apposito sulla Data Science di Neo4j, quindi su applicazioni specifiche in ambito Data Science e come queste possono contribuire a ulteriormente migliorare i risultati che si possono ottenere nell'attività di antifrode da Neo4j, quindi un ulteriore approfondimento e raffinamento. E poi anche, diciamo, un ultimo punto, quello di vedere come Neo4j è possibile essere integrato all'interno comunque di una vostra già esistente struttura, architettura di informazioni antifrode e come noi possiamo integrarci. Neo4j è un ambiente che ha molti strumenti di integrazione, quindi vedere come questo può essere comunque collocato in maniera non traumatica all'interno del vostro ambiente esistente. E poi vedremo appunto di avere un po' di tempo per la discussione e per le domande. Next, Neo4j, The Graph Company, questo è abbastanza noto. Una brevissima introduzione, poi lascerò la parola a Jan. Neo4j ha una storia di circa una ventina d'anni, più di dieci anni dal punto di vista commerciale, dalla versione 1.0 ed è il creatore, diciamo, della società che ha creato il settore dei graph database e attualmente siamo circa 350 dipendenti, nonostante il periodo ancora comunque in crescita, con un certo ritmo comunque sempre di assunzione, di potenziamento delle nostre strutture. Gli uffici sono attualmente quattro nel mondo, in particolare che è stata trasferita dall'originale sede in Svezia a San Matteo vicino a San Francisco nella Silicon Valley e mentre esistono poi in Europa tre altri uffici che sono Londra, Monaco e ovviamente Malmo, dove appunto è nata la società. Abbiamo una notevole presenza soprattutto nei grandi clienti, in grandi aziende, dove ovviamente la complessità del gestione dei dati è maggiore e sono circa 400 grandi aziende che utilizzano già Neo4j. A questo punto potrei passare avanti, nella prossima slide penso di lasciare la parola a Jan che prego di iniziare a parlare. Grazie. Grazie Riccardo. Mi senti? Sì, sì, ti senti. Perfetto, allora parto. Va bene. Allora, parliamo prima di chi sono le persone che commettono frode oggi o magari nel passato, non so se magari se lavorate nel settore di frode conoscete queste persone, però se pensiamo a frode pensiamo spesso a figure come questo. A sinistra c'è il mitico Victor Lustig, la persona che quando ha sentito che la Torre Eiffel aveva bisogno di manutenzione, è saltato sull'aereo dall'America verso l'Europa e ha cercato delle persone che volevano comprare la Torre Eiffel per i resti di metallo, si è incassato, si è trovato due potenziali compratori, si è incassato due volte o in totale credo due o trecentomila dollari che all'epoca, insomma, una bella cifra come anticipo o come soldi per garantire questo contratto dopodiché è risalito sull'aereo, è partito in America e si è tenuto i soldi. Dunque, a vendita della Torre Eiffel credo che in Italia hanno fatto cose simili col Colosseo ed altro. La persona al centro è Charles Ponzi, d'origine italiano, però conosciuto per il famoso Ponzi Scheme che poi ha preso il suo nome, che è lo schema di frode, probabilmente più conosciuto che è il gioco a piramide, diciamo, dove prendi soldi di una persona, gli prometti un return on investment altissimo veloce e dopodiché vai da altre due persone o tre persone, chiedi soldi a loro, con quello paghi il primo, poi vai a nove persone e così avanti. Questo è il Ponzi Scheme. La persona, e poi Charles Ponzi ha fatto dei milioni con questo Scheme, però la persona che l'ha perfezionato è Bernard Madoff, a destra, che adesso parliamo proprio di tempi di oggi, che è stato condannato, credo, nei primi decenni di questo secolo, per il più grande Ponzi Scheme mai fatto. lui ha fatto intorno a 50-60 bilioni di dollari con un Ponzi Scheme che ha durato 20-30-40 anni, addirittura è diventato talmente famoso che faceva parte, credo, del board del Nasdaq, che era super conosciuto, però era tutta aria fritta, diciamo, tutto basato su questo Ponzi Scheme. Dunque, quando parliamo di frode, pensiamo spesso a queste figure mitiche delle persone che hanno una bella storia, che sono furbi, però la realtà, la realtà che i fraudster di oggi sono organizzati ben diverso. Fraude è diventato molto più complesso di una persona intelligente che ha trovato una bella formula, che ha una bella chiacchierata e spiega bene ai clienti come possono diventare ricchi. I fraudster di oggi, anzitutto, non sono più individui, sono organizzati in gruppi, spesso sono organizzati a livello internazionale, lavorano da varie posizioni nel mondo, così non sono legati a una legge, ma lavorano a livello internazionale. non lavorano sicuramente sotto la loro identità, ma utilizzano la maggior parte del tempo o delle identità sintetiche, costruite, fittizie, o lavorano con delle entità rubate. Credo che probabilmente non c'è nessuno sulla chiamata che non è mai stato vittima di una phishing attack o qualcosa del genere, dove tentano di rubare parte della tua, di ottenere accesso a un tuo account e nel maggior parte dei casi questo semplicemente per rubare parte della tua identità, dopodiché può essere utilizzato in uno schema di fraud. E poi anche importante che, visto che tutto quanto è elettronico oggi, l'accesso alle banche, all'e-commerce che i fraudster fanno, ovviamente non è fatto dal computer loro da casa, ma utilizzano dei device che sono rubati o dove hanno fatto hacking e sono entrati, insomma utilizzano dei IP fittizi, utilizzano telefoni, telefoni, computer, smart TV, tablet, insomma il numero dei device che utilizziamo oggi è diventato talmente alto che diciamo a voglia ci sono device da rubare e da utilizzare. Dunque, questo è il mondo del fraud, è diventato così. Esistono tanti tipi di fraud, uno dei più conosciuti, ne parlerò più tardi, ovviamente è frode del col credit card. Jan, Jan che vive a Roma, compra un paio di scarpe con la carta di credito dopodiché compro qualcosa su Amazon e come mai tre secondi dopo sto comprando un mojito in Timbuktu? Non quadra. La mia carta di credito viene utilizzata in una posizione dove insomma io di solito non vado. credit card fraud, ne parliamo dopo. E-commerce fraud, persone che comprano delle cose online ma trovano modo per non pagarlo, per ricevere l'articolo ma non mai pagarlo. C'è la frode delle persone, il contrario, persone che vendono delle cose online ma che in realtà la roba non ti arriva mai, paghi e addio. Fraude con con insurance in inglese c'è un bel detto si parla di cash for crash dove persone fanno incidenti con le macchine per poi farsi pagare i danni dall'assicurazione. Anche questi sono schemi di frode complessi che si possono analizzare con Neo4j. Loan e investment in Ponzi scheme ne ho parlato due secondi fa. Fraude con con la disoccupazione in alcuni paesi il governo paga bene quando sei disoccupato e le persone si fanno licenziare per ottenere questi benefici. Scusami, Jan, c'è qualche suono se puoi ricordare le persone di mantenere il microfono per favore. Ok, vedo chi è ok, tutti sono mutati ora. Grazie. Fraude con le tasse per chi ha visto una piccola parte del video all'inizio l'esempio dei Panama Papers di cui parlava il nostro CEO e vi invito a vedere il video dopo, è molto interessante. È un esempio molto conosciuto delle persone che evadono le tasse e credo probabilmente lo schema più conosciuto cioè tutti quanti probabilmente evitiamo le tasse se possibile e che puoi evitare non è frode. gaming il settore il settore di gaming è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e anche nel gaming ci sono tanti modi per fare per fare frode. Ci sono delle persone che nei giochi che sono a pagamento trovano modo per spesso a transazione prendere magari centesimi alla volta però se è fatto a grande scale puoi guadagnare comunque parecchi soldi. insider trading all'interno delle banche le società di investimento chi ha informazione e agisce su queste informazioni anche questa è una forma di frode che può essere analizzato di nuovo con Neo4j e la lista sicuramente non è non è completa però questi sono tutti i tipi di frode e di analisi di frode che facciamo con Neo4j presso i nostri clienti sono forme di frode che cambiano in continuazione che dove trovi ho dei schemi molto semplici ma e magari vanno molto veloci ma anche dei schemi molto complessi che vanno su anni e anni i fraudster possono utilizzare dei canali digitali ma anche analogo si possono anche presentare nella banca o farsi rappresentare da qualcuno ovviamente è un gioco di 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 chi è prima tentiamo essere avanti ai fraudster però di solito chi commette frode è un po' più intelligente stanno sempre un passo avanti loro e può essere un gioco come ho detto prima dove è una persona semplice ma spesso sono gruppi grandi dunque questo è un po' il mondo del del fraud cosa c'entra il graph ok il se abbiamo oggi come oggi tutto è digitale se stiamo analizzando i dati nel quale all'interno si trovano esempi di frode sono due modi per trovare frode il modo tradizionale è trovare delle anomalie ho dato l'esempio prima di Jan la carta di credito non ho mai viaggiato diciamo non ho mai viaggiato fuori dall'Europa ma tutto tutto d'un colpo compro in un bar in Timbuktu un mojito secondo la carta di credito un quadra un'anomalia abbastanza semplice o compro qualcosa da da un da un indirizzo IP su cui mai sono stato prima non so io nel periodo che ho cominciato a viaggiare tanto per lavoro mi è capitato che prenotavo il prossimo viaggio mentre stavo ancora in viaggio stavo ancora in viaggio nel viaggio precedente per lavoro mi è capitato una volta che stavo in America prenotando il biglietto per Giappone e al momento che ho preso il biglietto aereo che insomma Stati Uniti Giappone aveva anche un certo prezzo mi è arrivato subito la telefonata della compagnia carta di credito dicendo guarda signore è vero che lei ha comprato dall'America un biglietto per andare in Giappone perché di solito non sta in America e non va neanche in Giappone non quadra per niente e mi hanno chiamato subito queste sono anomalie che sono abbastanza semplici a trovare perché insomma vanno su dati diretti che stanno un po' fuori dal fuori dal perimetro conosciuto più complesso invece è trovare dei pattern all'interno dei data points che non sono anomalie dunque se devo trovare all'interno dei dati che sono tutti data points che sembra normale un pattern che collega qualsiasi gruppo di questi data points perché non so quale pattern e dove lo trovo diventa molto più complesso ed è questo questo trovare dei pattern che Neo4j sa fare molto bene nell'introduzione Emil parlava già dell'esempio del Panama Papers e credo che è un buon momento adesso di utilizzare questo esempio dei Panama Papers per spiegare un attimo che cosa intendo con un pattern e perché insomma il graph database è bravo a trovare questi pattern allora il Panama Papers parla di persone un po' dappertutto nel mondo che si chiamano in questo modello dati officers che possono essere azionari direttori avere un ruolo dentro un'entità e questa entità al suo turno può avere un ruolo dentro altre entità tramite intermediari possono di nuovo avere ruoli dentro altre entità insomma chi conosce un po' il mondo offshore e l'offshore la società offshore insomma sa che si può creare una vera foresta di entità che rende difficile la vita per chi deve fare le ricerche poi su dove sono andati i soldi chi è proprietario di cosa eccetera dunque quando sono usciti i documenti del Panama Paper uno dei dei Wikileaks più conosciuto credo i giornalisti che hanno fatto l'analisi di questi dati hanno utilizzato Neo4j per caricare dentro tutti i dati e per poter analizzare questi pattern ovviamente con pattern qua i datapoint non sono difficili le entità sono come vedi sono quattro perché il loader insomma non viene utilizzato più di tanto sono quattro però il problema è trovare il pattern di un officer che connessa un'entità e tu non sai non sai all'inizio quanti passi cioè tra quante entità devi passare e un graph database ti rende questo collegamento o quest'analisi semplice cioè in un database relazionale in un database tradizionale tu devi specificare per ogni richiesta come passi da un'entità all'altra mentre un graph database ti fa fare un query anche sulla relazione tra le entità e dicendo guarda la relazione in realtà non mi importa quale è e non non mi importa neanche quante volte devo passare la riunione questa relazione trovami basta che tu mi trovi un pattern di questa tipologia ed io sono contento con la query ok per dimostrarlo meglio vi voglio far vedere l'esempio del del primo ministro dell'Islanda che che ha un certo giorno quando ho chiesto da un giornalista ma lei è proprietario di una società all'estero ha risposto no ed era onesto era corretto non era più proprietario perché l'aveva venduto qualche mese prima della della grande crisi delle banche in Islanda tra l'altro l'aveva venduto a sua moglie per un euro attraverso e faccio vedere un attimo l'esempio sul Neo4j Sandbox attraverso quest'analisi dei Panama Paper è diventato abbastanza chiaro e semplice cioè semplice analizzare che in realtà lui e sua moglie erano connessi tra un'entità in Lussemburgo e avevano questi soldi all'estero allora se volete dare un'occhiata a come funzionano questi pattern vi faccio vedere velocemente il Neo4j Sandbox che vi permette senza installare niente sul vostro pc di fare una prova con Neo4j andate sul sito Sandbox Neo4j.com cliccate sul dovete fare qualche login probabilmente potete fare con Google login o crearne uno cliccate sul New Project e ci sarà una selezione uno dei dei project che potete selezionare è il Panama Papers che io ho già aperto qua una volta creato quando cliccate su questo progetto viene creato un ambiente un Sandbox proprio per voi e una volta creato potete aprirlo nel Neo4j browser il browser è un tool di sviluppo per i sviluppatori dopo vi mostrerò anche un tool che è più per gli utenti business però non fatevi spaventare quando si apre ci sono chiare istruzioni con un con un guide che cliccando sulle frecce insomma vi fa vedere un attimo come funziona vedete anche il modello dati vedrete un po' di spiegazioni su su vari query cliccando anche sulle freccette qua potete anche vedere le query in azione vi faccio vedere velocemente su questa su questa sandbox fammi fare run questo è il vero modello dati dei Panama Papers con dei officer e questo è la visualizzazione del grafo del modello del grafo con dei officer degli intermediari degli entity e gli indirizzi e come vedete da vari tipi di relazioni tra officer e entity o officer e intermediari possono essere tantissime se voglio analizzare un pattern ed in questo caso il pattern che volevo fare è questo qua adesso questo esempio è tutto per spiegarvi che cosa intendo per un pattern in questo caso dico guarda a me mi interessano semplicemente mette i due officer di cui uno si chiama Sigmundur il premier e l'altro Sigurlaug che è sua moglie e poi il pattern che cerco che è un pattern molto semplice e molto utilizzato nel graph database è trovami il short spot tra questi due e non importa se non importa anzi non do il nome della relazione tra questi due non importa dove passi per trovarmi la relazione tra le due e poi puoi fare fino a massimo di dieci relazioni dunque non importa il nome ho messo un wildcard fino a massimo di dieci se eseguo questa query e questo alla fine è l'esempio abbastanza trivial vedo che sto caro Sigmund e sua moglie Anna Sigurlaug sono tutte due azionari della società Wintries che è basata a Lussemburgo mentre loro vivono in Islanda ecco l'esempio torno sulle slide spero che questo questo chiarisce un attimo il discorso del pattern perché se no rischio di parlare di pattern in generale ok il pattern probabilmente più conosciuto è il fraud ring dunque parlavo prima del discorso che i fraudster operano in in gruppo con delle false identità spesso come come funziona è che creano creano all'interno della tua organizzazione creano delle nuove identità fino a qua tutto normale si sono registrato non lo so sul sito sulla tua online bank nella tua società ad assicurazione si sono registrato tre nuove persone tutto normale queste persone hanno una carta di credito un conto bancario un social security number esempio americano potrebbe essere potrebbe essere un identificativo anche non so italiano persone hanno magari un loan abbiamo altri dettagli di contatto il numero telefono fino a qua sempre normale non non ho niente per per vedere se queste persone magari in qualche modo sono delle persone false o delle identità fittizie però quello che è tipico per le identità fittizie è che sono costruite e spesso c'è un po' di riutilizzo di elementi che fanno questa che fanno questa identità per esempio numero telefono perché se io anche se ho un'identità falsa devo in qualche modo essere raggiungibile qualche numero di telefono ho bisogno e non posso avere un numero un quantità di numero di telefono infiniti dunque ci sarà un po' di riutilizzo di numeri di telefono anche indirizzi non posso inventarmi un numero di indirizzi infiniti che io poi in qualche modo potenzialmente devo controllare dunque qua in questo esempio vedi che ci sono due account holder che hanno un indirizzo in comune che è strano mentre account holder 1 e 2 hanno un numero di telefono in comune e dove veramente la cosa puzza è che account holder 1 e 3 hanno il social security number in comune che dovrebbe essere unico questo non dovrebbe esistere allora da là si trova la compagnia dell'anello direi il fraud ring di questi tre account holder che probabilmente o possibilmente sono dei fraudster e questo di nuovo mi riporto al discorso che con un graph database questi pattern si possono trovare abbastanza facilmente mentre su un database relazionale o un database dove i record non sono connessi e dove non c'è la possibilità di trascorrere un numero di relazioni non predefiniti è difficile trovare questo tipo di pattern ok se non volete credere alla mia logica vi spiego un attimo che cosa ha scritto Gartner già 5 anni fa hanno detto guarda la tecnologia tradizionale non basta per per trovare i fraudster oggi come oggi nel modello di Gartner loro parlano di 5 metodi per trovare un layered model di 5 tipologie di analisi di fraud di cui i primi 3 sono quelli tradizionali e parlano di o analisi dell'endpoint dunque analisi dell'endpoint vuol dire io fammi utilizzare l'esempio di Google di Google Mail per esempio di Dropbox per chi utilizza Dropbox se io faccio un sign in della mia Google Email e utilizzo un nuovo computer uno che non utilizzo quasi mai ma arriva quasi immediatamente un email dicendo lei ha fatto il login da un altro apparecchio è normale è sempre lei viene subito trovato questo problema endpoint analysis navigation centric analysis vuol dire che è anche questo Google Google Email per esempio lo fa hai fatto un login da un'altra città a un altro paese quasi sempre quando di nuovo sto in viaggio per lavoro sto in una città dove di solito non vado spesso subito arriva l'email dicendo stai sulla tua Google Email da un indirizzo che normalmente non fai e poi account centric analysis è piuttosto sul tuo behavior come ho detto prima Jan di solito magari non compra questo e questo articolo tutto ad un colpo compra qualcosa di questa categoria come mai viene creato l'alert questi sono i metodi tradizionali e come ho spiegato dice anche Gartner così non trovi i fraud rings non trovi i indirizzi IP fittizi i computer rubati o act eccetera perché questi sono metodi di analisi discreti e con discreto vogliamo dire che c'è una fetta di behavior normale e questi stanno fuori stanno chiaramente ovviamente fuori da questa banda di behavior normale mentre quello che dobbiamo trovare sono i battering che stanno all'interno del behavior normale allora il connected analysis utilizzando il graph come dice anche Gartner che permette di fare un'analisi attraverso tutti i canali dove i fraudster ti possono contattare e fare un linking di tutte le entità ed ecco di nuovo Neo4j è il database che può utilizzare con questo perché i graph database sono l'unico tipo di database che ti permette di modellare oltre le entità anche le relazioni e dare alla relazione tra le entità in importanza che è uguale all'entità stessa e che ti permette di specificare all'interno delle query anche il pattern cioè quale relazioni vado a esplorare quale no e facendo così specificare il pattern che cerchi oltre quello Neo4j specificamente questo è solo Neo4j e nessun altro graph database ha un modello di storage proprietary che fa la modellizzazione di questi dati in modo graph sul disco che vuol dire che i query del graph e l'analisi cioè trascorrere le relazioni tra un'entità e l'altra tra un node e l'altro è super veloce perché la relazione tra due punti esiste sul disco non è come altri database qualcosa di virtuale dove serve un look up eccetera dunque è un fattore cento volte più veloce che un database relazionale o altre tecnologie fammi fare un esempio del credit card fraud a questo punto e poi faccio una veloce demo allora credit card fraud come possono rubare la tua carta di credito vai in negozio compri qualcosa e in qualche modo ti rubano i dati fanno scheming davanti all'ATM dunque in qualche modo tu metti la carta dentro e qualcuno la scannerizza non è sull'apparecchio sopra l'ATM o ti rubano proprio la carta la carta di credito da non lo so da qualche sito dove hai comprato e come leggi spesso rubano i dati di un milione di utenti eccetera dunque è facile perderlo utilizzo normale è che tu utilizzi la carta che ti ha dato dalla fisa dalla banca per fare delle transazioni quando viene rubato il fraudster invece che cosa fa prende la carta di credito e comincia a fare dei test piccoli comincia con non lo so comprare una canzone iTunes online per meno di un euro e va avanti così fino al momento che vede che la carta funziona non scatta nessun allarme fa un acquisto notevole ok come trovi questo tipo di frode allora il pattern è questo la persona che fa una serie di transazioni che sembrano tutti quanti normali non sembrano anomalie finché viene l'acquisto grosso compra un laptop questa questa persona e ovviamente lui vede che insomma non l'ho comprato io cosa è successo e fammi riempire la slide che è più semplice e la stessa cosa che è successa a John può capitare a Sheila Sheila ha avuto una serie di transazioni che sembravano tutti normali finché ha speso 3000 euro in gioielli mentre Karen ha tutto d'un colpo e spende 1500 euro a dei mobili allora quello che si deve fare è trovare il pattern dove percorri tutta la catena di acquisti trovando quegli acquisti piccolini e poi trovare la comunalità il legame tra alcuni di questi acquisti e in questo esempio Karen Sheila John hanno fatto un acquisto tutti quanti in un gas station hanno comprato hanno comprato qualcosa non lo so magari qualcosa da mangiare mentre si sono fermati e probabilmente la persona che lavora lì in quel momento a quell'orario in qualche modo gli ruba i dati della carta di credito dunque ritornando indietro su tutta la catena dei acquisti e trovando i legami e si trova la comunalità tra tutti questi acquisti e si vede che insomma là c'è un potenziale di frode o probabilmente il frode è iniziato lì a questo punto vorrei fare una demo veloce prima che concludo sulla data science e la parte architettura e a questo punto devo un attimo lanciare Neo4jdesk desktop e fare il screen switching allora all'inizio vi ho fatto vedere vi ho fatto vedere il il sandbox questo invece è Neo4j desktop desktop è un prodotto che utilizziamo per i sviluppatori ed in realtà desktop è un shell che ti permette di girare all'interno di un piccolo applicativo sia un Neo4j database come vedi posso girare un Neo4j 3.5 e un qua dentro c'ho anche 4 da qualche parte dunque posso avere varie versioni del database posso avere i plugin e posso avere anche i frontend tool e i vari tool di sviluppo tutti quanti installati non è il non è il nostro prodotto server per la produzione è il prodotto che è utilizzato per i demo e anche come piattaforma di sviluppo è disponibile sul sito per scaricare ci sono anche dei demo all'interno dunque chi vuole fare qualche esperimento con Neo4j lo può fare gratuitamente perché questo è disponibile per i download come ho già dimostrato sul sandbox la parte del Neo4j browser che è il lato sviluppo volevo un attimo mostrarvi la parte di Neo4j Bloom che è il tool per i end user si sta aprendo chiaramente devo fare il share screen di nuovo ecco Bloom ok dovreste vederlo questo è il tool dei end user e già si vede che è in tutto un modo diverso di presentare i dati il modello dati di cui parliamo ha comunque sempre nel nel mondo del banking parliamo di account holder che hanno degli indirizzi che hanno un conto bancario che hanno una carta bancaria una credit card hanno un indirizzo e questo è legato a una banca fanno dei login tramite qualche indirizzo IP eccetera è modellizzato tutto tutto ciò l'esempio diciamo tanti elementi dell'esempio di cui abbiamo parlato e l'interfaccia ti permette anzitutto semplicemente di fare delle search qua sopra in questa text text box così io voglio trovare magari dei account holder digito semplicemente account holder e mi propone già il fatto che esiste la categoria account holder faccio account holder e mi fa vedere i primi mille account holder capite subito perché il tool si chiama bloom da un bel fiorellino da account holder posso fare legame al per esempio social security number e di nuovo se digito account holder e social security number mi dice guarda ti propongo due modi per navigare il modello posso trovarti tutti gli account holder con il loro social security number o posso proporti gli account holder con una relazione che si chiama a un social security number in questo caso è molto simile però quello che mi interessa è non semplicemente vedere tutti i social security number degli account holder però voglio vedere account holder che sono connessi a altri account holder con lo stesso social security number ricordatevi l'esempio che ho dato prima aspetta si aggiunge sempre allo sin dunque do prima pulire un attimo lo schermo adesso rifacciamo questo adesso escono fuori anche molto veloce tutti gli account dove ho dei account number dove ho dei social security number che sono legati alla stessa persona in questo caso è di nuovo il pattern è trovami le persone che hanno un social security number in comune come vedete non importa se sono due persone o tre persone o quattro persone cliccando poi posso andare a fare un po' mod analisi chi è questa persona qual è il social security number che viene utilizzato eccetera dunque abbastanza semplice free text search se cerco una ovviamente se cerco una persona se cerco il nome di una persona diciamo il first name e cerco il first name dirk trovo la persona che si chiama dirk non posso soltanto cercare sull'entità ma posso anche andare nei attributi e trovare e trovare dei elementi oltre quello posso prendere delle query cipher nell'esempio del sandbox io ho fatto vedere un query cipher per trovare l'esempio del fraud ring con premier islandese e posso posso definire questi cipher query all'interno di questo tool e metterci un utilizzo molto più user friendly sopra per esempio questa frase si chiama fraud rings ha una query ben complessa dietro come vedete qua e mi permette di semplicemente come end user di dire guarda trovami tutti i fraud rings aspetta devo un attimo dimentico sempre di fare clear scene ecco pulito questo è il fraud ring e mi trova alcuni fraud ring allora mi fa soltanto vedere i nodi però se io ne seleziono due e faccio l'analisi del shortest path trovo le relazioni tra queste persone se poi espando tutto cominci a vedere più in dettaglio il fraud ring Ian mi senti dimmi Riccardo ti interrompevo un attimo anche per variare un attimo voce ma anche perché c'è una domanda a cui rispondevo io perché è abbastanza semplice non comporta nulla di tecnico è stato chiesto semplicemente se Bloom fa parte di quale versione fa parte niente precisavo che Bloom è un prodotto di visualizzazione che sta facendo vedere adesso Ian che è di Neo4j ed è un modulo software quindi una componente software a parte rispetto al database Neo4j e può essere aggiunto con una è un'opzione aggiuntiva che ha un certo costo diciamo separato dal dal database il costo è basato sul numero di utenti che utilizzano Bloom mentre invece Neo4j non è basato è indipendente dal numero di utenti ed è quindi un modulo aggiuntivo che si aggiunge alla versione Enterprise quindi la versione Enterprise Edition ok avevo alcuni altri esempi però vedo che ci rimangono più o meno dieci minuti chi vuole più demo di Bloom e esempi di pattern e analisi possibile ci può contattare facciamo volentieri demo più dettagliati ci sono alcuni di questi slide degli esempi stanno dentro le slide però voglio concludere la parte sul data science perché già ovviamente come ho fatto vedere il linguaggio cipher cioè il nostro query language e la potenzialità del graph database ti fanno trovare dei pattern però come Riccardo ha spiegato negli ultimi anni abbiamo cominciato a rilasciare delle librerie di data science che sono specifiche per il graph per le analisi data science sopra il graph che ti permettono ancora di trovare dei pattern più intelligenti ne voglio voglio parlarne a livello teorico un attimo però esiste una registrazione fatta da mio collega Joe DePoe che ha fatto un webinar più o meno un mese fa che va specifico su questo elemento e fa una demo di quasi mezz'ora soltanto sulla parte graph data science nel graph allora gli algoritmi di data science all'interno del graph che ci possono aiutare sono cinque categorie il primo è path finding e search e l'ho già fatto vedere l'esempio del shortest path è uno di quelli più utilizzati il secondo tipo di algoritmo è di centrality e importance cioè esistono dei nodi che sono più connessi o meno connessi dei altri la terza categoria è il community detection esistono esistono parti del graph che fanno che sono più connessi tra di loro e così formano gruppi separati dei cluster all'interno del graph poi esistono gli algoritmi di link prediction che ti permettono di dire guarda secondo le relazioni che già esistono tra queste e questi node dovrebbe esistere una relazione ma non c'è e poi esistono gli algoritmi di similarità che ti permettono per esempio tra viene utilizzato spesso parenti di resolution se esistono due nodi YAN ARTS e DROON database vedendo quanti elementi hanno in comune per dire guarda in realtà 99% siamo sicuri che i due nodi di YAN in realtà sono lo stesso e ti permette di fare tipo di duplication che ovviamente nel caso di frode indirizzi fittizi può essere molto interessante parlo di abbiamo all'interno della data science library credo che siamo oltre 60 algoritmi diversi chi se ne interessa chi è data scientist può dare un'occhiata ai vari algoritmi ci vuole un po' di studio per prima di capirle tutte io parlo di alcuni esempi semplicissimi in questo qua per esempio il primo esempio è il page rank page rank sarà stato probabilmente il primo algoritmo graph o il più conosciuto è quello che google utilizza per dire guarda queste sono le pagine internet importanti perché sono quelle più connesse ok anche all'interno del frode questi algoritmi si possono utilizzare quali sono i bank account dove passano più dati quali sono i clienti con più transazioni nel gaming per esempio se si trova un giocatore che fa tante transazioni più dei altri eccetera può essere un'indicazione di frode dunque il page rank ti permette di dire quali sono i nodi importanti verso i nodi piccoli diciamo e anche a livello di visualizzazione all'interno di bloom possiamo utilizzare l'algoritmo page rank per creare un attributo a livello del nodo che dice guarda questo nodo lo devi visualizzare piccolo o grande il discorso dei weekly connected components weekly connected components in realtà la possibilità di trovare dei cluster può essere utilizzato come diceva per trovare gruppi di famiglie cioè queste persone in realtà sono una famiglia vera però può essere anche utilizzato per trovare delle identità sintetiche o stolen che hanno elementi in comune appaiono o sembrano un gruppo però in realtà non lo sono anche qua utilizzando questi algoritmi puoi aggiungere dati all'interno del graph e puoi utilizzarli dentro l'analisi e poi l'ultimo esempio è il node similarity faccio un'analisi di nodi che perché sono connessi tramite x relazioni ed x altri nodi secondo me hanno un certo livello di similarità anche questo facendo questi algoritmi puoi estendere il modello in questo caso non con un attributo sul nodo ma con una relazione che dice questi due elementi sono simili con un percentuale di tot e utilizzarlo all'interno dei analisi e dei query che fai questo veramente in tre minuti come la data science può aiutare Jan scusa ci sono ci sono state alcune domande su questa parte diciamo una diciamo alla domanda iniziale hai sicuramente risposto perché era quello di sapere se c'erano altri specifici algoritmi già registrati e ne hai fatti vedere tanti e quindi è già stata data risposta a questa domanda però diciamo volevano dovevi prima di tutto specificare dove poi sul nostro sito come si poteva avere maggiore approfondimento sul sito su questi algoritmi per studiarli maggiormente e averne maggiore informazione e secondo punto c'è un'altra domanda sempre sugli algoritmi per esempio questi qui hai fatto vedere di centralità di vicinanza di page rank e via dicendo se una precisazione se questo era veniva realizzato su tutto il grafo oppure bisognava prima identificare un sotto insieme la maggior parte la maggior parte dei algoritmi sono parametrizzati in realtà sono dei algoritmi che vengono chiamati all'interno di una una query cipher dunque posso posso dire all'interno della query cipher guarda questo questo è la parte del graph su cui voglio applicare l'algoritmo e controlli l'area in cui insomma vai a applicare l'algoritmo in più sono parametrizzati dunque attraverso i parametri puoi spesso definire come per esempio il query che ho fatto puoi dire guarda devi fare massimo una distanza di 5 relazioni o una distanza di x nodi non più di quello dunque la maggior parte dei algoritmi hanno questo tipo di parametri che ti permette di controllare un po' del scope dell'analisi che fai e aggiungerò nella presentazione una link verso le pagine sul nostro sito con la parte data science aggiungerò anche il link verso la demo della data science il video youtube e in inglese come ho detto dal mio collega che secondo me è molto molto interessante e fa una demo soltanto sulla parte data science e l'applicazione di questi algoritmi per concludere la presentazione che poi inviamo sì perché sulla registrazione ormai qua è troppo tardi però quella che la gente può richiedere lo aggiungerò due slide per includere questi elementi se ci sono tante domande su questo poi insomma se ci sono altre domande vedrò se devo aggiungere qualche link o qualche ulteriore informazione per concludere come mettere Neo4j nell'architettura allora si sono nella moderna architettura di Frode ovviamente esiste già da tanto tempo il database relational non devo elaborare ho già spiegato a quali elementi serve il relational database dove sono bravi e dove sono già utilizzati tutta la parte di script analysis però tutto il linkage è difficile maggior parte delle società oggi come oggi hanno anche un data lake dove fanno il number crunching severo e pesante utilizzando MapReduce anche là c'è la possibilità di trovare relazioni però i metodi sono diversi su MapReduce in realtà non esiste nessuna relazione tra nessun dato sono tutti key value pair e relazioni vanno trovati applicando algoritmi pesanti di MapReduce che vanno su un cluster molto grande spesso queste analisi prendono parecchio tempo sicuramente non è un'applicazione real time ed ecco dove entra il graph il graph spesso viene alimentato con una parte del data lake sicuramente non tutto il data lake ma la parte che è interessante per l'analisi del connected data può essere complementato con con un stream real time perché ovviamente la parte real time in tanti casi di frode non in tutti però in tanti casi di frode l'elemento real time è super importante e ti permette di fare un'analisi sui linked data fare dei query cipher che ti trovano fraud ring ed altri pattern quasi immediato qualcosa che un relational database o un data lake non potrebbero mai fare e spero di aver dimostrato più o meno che cosa sono questi pattern e come li potete vedere anche con il tool bloom e con con cipher eccetera questo è un po' dove Neo4j ha una posizione accanto al data lake accanto al database relazionale per aiutare nel mondo di frode concludo la presentazione qua siamo già tre minuti oltre vi ringrazio per per l'attenzione io direi Riccardo rimaniamo ancora qualche minuto magari per delle domande vedo che il numero dei partecipanti sta comunque stabili a 73 comincerà a scendere tra poco però diciamo che prima di tutto ti ringrazio è stata secondo me una presentazione molto efficace molto chiara e invitavo tutti quanti ancora se volete c'è ancora qualche minuto sicuramente disponibile se c'è qualche domanda però abbiamo risposto a quelle che erano state sottoposte ed evidenziate come ulteriore ecco no c'è una domanda ancora come si integra il prodotto in un'applicazione esistente forse questa è la parte che abbiamo coperto forse un po' meno sì questo questo è tutto l'ecosistema del intorno a Neo4j per fare la data integration dunque esiste tutta una serie di driver applicativi dunque esistono dei driver java javascript python .net php tutta una serie di driver che ti permettono al modo applicativo di scrivere un api verso Neo4j nelle pagine di developer e di documentazione ci sono esempi di tutti questi tipi di api dunque si può scrivere per esempio un rest api sopra al driver java per avere un accesso diretto questo può essere un api per fare streaming data e far far apperare dei dati all'interno di Neo4j ma può essere anche un api applicativo per scrivere un'applicazione frontend sopra Neo4j questo è elemento numero uno elemento numero due è abbiamo dei plug-in per vari tool data integration che ti permettono di fare del bulk load dei dati all'interno di Neo4j dunque api per la parte real time ma abbiamo anche dei metodi di bulk load tramite scripting tramite plug-in per tool di data integration esistenti eccetera terzo metodo per connettere a Neo4j è quello che chiamiamo il BI connector che è un connettore che ti fa la traduzione dei SQL standard tradizionale a Cypher e che ti permette di mettere un tool tradizionale business intelligence sopra Neo4j nel caso vorresti fare diciamo visualizzazioni più standard dunque non non le visualizzazioni graph che ho fatto vedere io oggi ma una tipica tabella un pie chart un bar chart eccetera è anche disponibile questo metodo di integrazione sì ci sono poi altre domande che stanno venendo fuori oltre a questa dell'integrazione che sulla documentazione comunque sulla documentazione sicuramente rispondo già io dicendo che manderemo link su Neo4j in particolare qui parlava su come alimentare Neo4j quindi su come inserire i dati quindi come caricare i dati e poi c'è un altro ti riassumo le domande che forse puoi vedere anche tu ce n'è poi un'altra che forse è un pochino fuori il tema di oggi ma comunque può essere interessante quindi sui controlli di qualità quindi può essere utilizzato Neo4j per identificare anomalie di prodotto e quindi controlli di qualità penso sicuramente di sì è chiaro che bisogna valutare quello specifico use case e poi lasciate comunque anche la parola e l'ultima domanda che abbiamo qui adesso è su una stima dell'hardware per gestire moli di dati diciamo di dati realistica per un utilizzo near real time quindi qua parla di 100.000 entri al giorno da inserire e analizzare quindi questo è un caso un po' più reale di analisi real time quella che hai anche evidenziato prima guarda non ho la chat aperto dovrei aprirla mi ricordo le domande sulla documentazione di come alimentare Neo4j se vuoi dire qualcosa su come si carica l'alimentazione di Neo4j avevo appena spiegato esistono dei API esistono i metodi di bulk load tramite scripting ma anche integrazione dei plugin con dei tool data integration esistenti ed esiste il SQL connector diciamo il BI connector tutti i modi per connettere e caricare i dati dunque caricare i dati sono i controlli di qualità questo va un po' fuori il tema di oggi diciamo però se hai qualche esempio sì allora ovviamente immagino che non sto provando di capire il contesto immagino che il controllo di qualità durante il processo di produzione magari dunque Neo4j viene utilizzato molto spesso come product master è un use case completamente diverso di quello che abbiamo fatto qua però abbiamo molti clienti che hanno costruito il bill of material intero dei loro prodotti sopra Neo4j parlo di clienti tipo Airbus e recentemente anche Boeing che hanno la configurazione intera dell'aereo per esempio dentro Neo4j abbiamo clienti come la maggior parte delle società che creano le macchine per esempio Volvo che ha la configurazione intera della macchina anche dentro quello gli permette di andare a fare analisi complessi su ok abbiamo dei problemi con certe macchine quale sono su questi vari tipi e quale sono elementi comuni nella configurazione del prodotto questo è un esempio però la domanda potrebbe essere anche durante il controllo di qualità di una diciamo una catena di produzione dove non parliamo di un aereo ma parliamo di magari centinaia di prodotti che vengono prodotti al secondo su una production line possiamo approfondire perché in tutti e due i casi ci sono possibilità abbiamo dei clienti inviterò invito chi ha fatto la domanda magari di fare una call separata e di parlarne un attimo in dettaglio altra domanda era sul sizing a un sizing diciamo un'idea naturalmente così diciamo ipotetica su un'applicazione che praticamente riceva centomila entry quindi centomila informazioni dati possono essere transazioni al giorno da poi analizzare cioè eventualmente da sottoporre ad analisi di pattern per fraud detection è difficile fare il sizing però credo quello che è importante di capire è che per fare l'analisi delle relazioni Neo4j è proprio studiato e disegnato al tavolino proprio per questo e se dico che Neo4j fa queste query dieci cento volte più veloce di un database relazionale è vero non abbiamo tanti clienti dove abbiamo più di dieci macchine la maggior parte dei nostri clienti girano su un nodo tre nodi tre nodi per fare il ride più un read un read replica e questi sono clienti che girano dei graph con dieci milioni cento milioni di nodi la maggior parte dei proof of concept che facciamo carichiamo oltre milioni di nodi su un laptop il Panama Papers che ha credo 11 milioni di nodi lo giro sul mio laptop posso fare un demo sul laptop senza che ho dei problemi dunque diciamo i volumi diciamo è sorprendente quanto volume uno può girare su un nodo singolo di Neo4j questo lo possiamo dimostrare facilmente se i dati sono disponibili dentro un proof of concept caricare i dati di fare alcuni query su non lo so 10 milioni di nodi di solito prende solo un paio di giornate non è un'attività complessa di solito spero che risponde più o meno alla domanda così sì poi comunque siamo sempre disponibili per analizzare il singolo caso singolo use case che è sempre la cosa migliore ovviamente perché poi bisogna andare a vedere le singole specifiche esigenze e scopi dell'applicazione rispondo io alla versione se esiste una versione SaaS quindi oppure DB as a service al momento sì si chiama Aura però al momento non è ancora disponibile come versione enterprise è una versione che è su cloud e che è diciamo riservata a singoli professionisti sviluppatori ancora un taglio individuale diciamo di produttività individuale viene pagato mensilmente via carta di credito nel prossimo futuro nei prossimi 12-18 mesi ci saranno novità su questo punto potrebbe essere disponibile la versione enterprise come DB as a service su cloud e questa era l'ultima domanda ci sono ringraziamenti e Jan se non avevi altre precisazioni l'ultima cosa che io da parte mia posso dire è che comunque tutti coloro che hanno partecipato alla webinar di oggi prima di tutto vi ringrazio e secondo vi do possibilità comunque di contattarci direttamente la nostra email o telefono per qualunque caso domanda specifica di approfondimento quindi se la vostra azienda avete un progetto sotto mano da sottoporci fate pure e noi possiamo io Ian e altre risorse Neo4j esaminarlo e proporvi delle soluzioni di conseguenza specifiche al vostro caso Ian se non hai altre precisazioni o qualcosa altro da aggiungere possiamo chiudere ringrazio tutti anch'io mi scusa che siamo andati un po' oltre l'ora previsto ma faccio sempre prendere dall'entusiasmo grazie a tutti grazie anche a Lorena e Ian e arrivederci alla prossima naturalmente proporremo successivamente altri webinar che stiamo studiando su altri argomenti su altri use case o su speciali parti del nostro prodotto grazie tanto grazie a tutti grazie grazie buona giornata